Sostituzione delle testine di stampa nelle stampanti HP Smart Tank 210, 520, 540, 580, 590 e 5100 series. Se la testina di stampa è difettosa o danneggiata, è necessario sostituirla. Per sostituire la testina di stampa, completare la procedura riportata di seguito. Se la stampante non è ancora accesa, accenderla premendo il pulsante di alimentazione. Chiudere l'estensione del vassoio di uscita. Aprire lo sportello anteriore. Attendere che il carrello si sposti nel centro e si fermi. Premere e rilasciare il fermo blu per aprire il coperchio delle testine di stampa. Afferrare la testina di stampa sui lati e tirare per rimuoverla dal carrello. Quindi appoggiarla su una superficie protetta. Attenzione! Per evitare che fuoriesca l'inchiostro, mantenere la testina di stampa dai lati e in posizione verticale. Rimozione della nuova testina di stampa dalla confezione. Tirare la spina per rimuoverla dalla parte superiore della testina di stampa. Rimuovere il nastro dai contatti della testina di stampa utilizzando la linguetta. Attenzione! Non toccare i contatti color rame, nell'ugello dell'inchiostro. Non sostituire il nastro protettivo sul contatto. In caso contrario, potrebbero verificarsi intasamenti, problemi relativi all'inchiostro e danni ai collegamenti elettrici. Inserire la testina di stampa nell'alloggiamento corrispondente, quindi spingerla delicatamente, inclinandola leggermente verso l'alto, fino a farla scattare in posizione. Se necessario, ripetere la procedura per l'altra testina di stampa. Chiudere il coperchio delle testine di stampa. Chiudere lo sportello anteriore. Aprire l'estensione del vassoio di uscita. Se la stampante in uso è dotata di scanner, allineare le testine di stampa. Viene stampata automaticamente una pagina di allineamento. Quando la spia di apertura del coperchio lampeggia, aprire il coperchio dello scanner e posizionare tale pagina con il lato stampato rivolto verso il basso. Chiudere il coperchio dello scanner. Premere il pulsante di copia per eseguire la scansione della pagina. Durante la scansione, sul display della stampante viene visualizzata una lampeggiante, che scompare al termine dell'allineamento della testina di stampa. Per trovare video HP in altre lingue, fare clic sulla scheda Playlist in YouTube. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Per trovare video HP.